Che cos'è questa schiuma? L'allarme e la sorpresa arrivano con due foto inviateci da un nostro telespettatore che mostrano una sostanza depositata sul bagnasciuga della spiaggia della torre a Porto Novo. Idrocarburi o detersivi? La curiosità ci spinge a verificare. Quando arriviamo sul posto scopriamo che, per la fortuna di tutti gli amanti del mare ed in particolare della baia, quella schiuma non è altro che schiuma di mare, assolutamente naturale. Sandro lavora da 54 anni a rimessaggio Barche della Torre. E' lui che ci racconta che più volte all'anno questa schiuma invade la spiaggia, colpa delle mareggiate, prevalenti in inverno, che trascinano a riva l'insieme di plankton, alghe marine morte e detriti. Le particelle si uniscono in una forma solida schiumante, dal cattivo odore di marcio e scivolosa al tatto. La schiuma si dissipa con acqua o artificialmente, ma non è nulla di velenoso né di inquinante. Altrimenti avrei già avvertito le autorità, ci dice Sereno Sandro, accompagnato dal suo fido cane. E infatti nessun tecnico del comune o dell'ARPA mi è stato avvisato. E così l'allarme rientra, ma almeno ci siamo fatti una splendida passeggiata invernale lungo la solata spiaggia di Porto Novo.